No, lo dobbiamo andare a piazzano, dice no, qui lì c'è stata Antonia, una garanzia, una lavatrice, una garanzia di ammuina secondo me, che hai organizzato e perché ci hai fatto curare qua, non hai letto la bacia, scendete, votate la macchina, non c'è mai altro, non c'è questa accortenza, perché la gente si deve rimassare, deve recuperare un po' del tempo per tutti, quindi devono spegnere i telefoni, infatti non so se hai visto, il percorso è simparico, perché nella prima parte potete apprezzare i profumi della campagna, passate lì, infatti, si aprono i polmoni, si apre lo spirito e poi si riprende a degustare le bontà, i costumi, quanti sono i figuranti? Allora, sono quasi 250 persone, bambini, adulti, in effetti il bordo di schiazzare, questo è bello, non so se hai visto questo. Invece la di Mura, chi è la di Mura? L'antica di Mura, è tutto schiazzano che è un'antica di Mura, però ce ne sono un paio di case protagoniste. Il palazzo Rangiano, poi il palazzo di Romano, l'altro palazzo di De Puglisi, però la famiglia è un'altra, che sono le famiglie storiche di schiazzano, i famigli armatologi, i famigli amatologi, i famigli amatologi del regno e chiaramente loro, oltre ad avere delle flotte, delle industrie, si lavano l'argento, si lavano l'argento, si lavano l'argento. È bello, si, hai ragione. È un ottimo consiglio e domani lo mettiamo tutto su. Allora vado a verificare se è vero che sei una garanzana. Ci vediamo domani sera. Ciao, arrivederci. Ciao.